227 ai nidi comunali, 685 alle scuole dell'infanzia. Da lunedì 2 settembre è tutto pronto o quasi per la partenza del nuovo anno per i più piccoli che andrà avanti per 205 giorni effettivi. Ma non c'è PNRR o denatalità che tenga. I posti disponibili non sono sufficienti. Ai nidi ci sono 24 piccoli in attesa, mentre alle materne ne restano fuori al momento 51. Si lavora per recuperare posti. Come dice l'assessore all'istruzione del comune di Cremona, Roberta Mozzi. Il recupero dei posti avviene in base a quelle che possono essere le rinunce di altri genitori che si sono iscritti prima. È semplicemente così perché non è che abbiamo la possibilità di offrire dei posti in più. Per il resto le strutture sono quelle. La novità di quest'anno è l'attivazione del micronido nuovo alla scuola dell'infanzia Castello. Intanto sono state fatte le assunzioni del caso, ma ci sono ancora lacune. Sono appena stati svolti due concorsi che hanno portato ad assunzioni a tempo determinato in base a graduatoria di educatrici e maestre per l'infanzia. Siamo ancora sotto organico, per cui c'è, e si è chiuso penso il 24 d'agosto, un bando per la possibilità di fare domanda per assunzione a tempo determinato. Roberta Mozzi, fino a un anno fa dirigente della Toriani, ora torna decisamente in ambiente scolastico. Sì, su un settore che non conosco, ho apprezzato in questi giorni in cui ho incontrato, ho avuto il piacere di incontrare anche i vari team delle scuole, che ho notato un veramente grande entusiasmo da parte delle maestre e delle educatrici e una voglia di mettersi in gioco proprio per cercare di favorire al massimo l'alleanza sia con le famiglie ma proprio in vista di una crescita dei bambini che mi ha stimolato molto, quindi rende il mio lavoro interessante.